Inizia un agosto rovente e non solo per le temperature da bollino rosso. Dopo i giochi di prestigio che hanno portato alla caduta del governo Draghi è iniziata questa inedita e incandescente campagna elettorale sotto la calura estiva. Tempi ristretti e regole del gioco diverse costringeranno i partiti ad una propaganda all'arrembaggio ed alleanze last minute, un po' come quel fine settimana al mare o in montagna. A seguito del referendum del 2020 infatti si passerà da 615 deputati a 400 e da 315 a 200 senatori. La drastica riduzione degli eletti ha radicalmente ridisegnato la geometria dei collegi in tutta la penisola, in alcuni casi anche travalicando i confini delle singole province. La legge elettorale rimane il rosatellum, ovvero un sistema misto. Il 37% dei seggi verrà assegnato con il sistema maggioritario. Chi prende anche un solo voto in più viene eletto. Il restante 61% verrà invece ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che avranno superato le soglie di sbarramento. Per la Camera Arezzo avrà un collegio tutto suo che comprende reggello e Figline. Per il plurinominale alla Camera il collegio sarà più ampio e raggrupperà, oltre ai comuni della provincia, Figline e Reggello e le province di Siena, Grosseto e Livorno. Sarà una lista bloccata dove quindi l'elettorato non potrà esprimere la preferenza. Storia diversa per il Senato dove per l'uninominale la provincia di Arezzo è inserita nel collegio con Siena e Grosseto. Infine per il proporzionale i candidati a Palazzo Madama competeranno su un'unica base regionale. Anche qui lista bloccata. Pochi collegi e tanti candidati insomma, come il gioco delle sedi a cui giocavamo da piccoli. Quando si interrompeva la musica dovevamo fiondarsi per prendere un posto e non venire eliminati. In questa campagna elettorale la musica è iniziata e tra poco finirà. Chissà chi rimarrà senza poltrona.